Al Castello Giusso, un passo indietro nel tempo. Sulla terrazza a picco sul mare, con vista a mozzafiato sul Vesuvio del Castello Giusso di Vico Equense, si è tenuta una serata da favola, che riecheggia le atmosfere magiche delle feste e delle danze del 1800, in costumi rigorosamente d'epoca. Il Gran Ballo, organizzato dall'Associazione Borboni, si nasce, in collaborazione con il Castello Giusso, Villa Giusso e l'Associazione Internazionale di Danza Storica Armonia Suave, è stato un evento privato riservato ai soci dell'Associazione e ai residenti del Castello. Una serata di gala con circa 100 rievocatori storici provenienti da tutta Italia. Dopo il Gran Ballo di Vico Equense, l'Associazione Borboni si nasce, ha in programma altre serate di gala. La settimana prossima sarà in Sicilia, a Segesta, prima di arrivare a Parigi il 13 ottobre, per poi tornare a novembre, per la terza volta, presso la reggia di Caserta. Stavolta abbiamo scelto Vico Equense e il suo Castello Giusso, spiega Laura Esposito, presidente dell'Associazione Borboni si nasce, perché è una dimora storica legata agli angioini, che nel 1800 fu rilevata dal banchiere genovese Luigi Giusso, figlio del conte Girolamo, trasferitosi a Napoli. Eccola ai nostri microfoni. Veramente da brividi, è stata una serata calda come temperatura, ma calda come emozioni, come passione, perché eravamo in tanti. Abbiamo visto fino anche bambini essersi uniti. Il bello è essere con tanti gruppi, con Palermo, con Mazzara del Vallo, Genova, Roma, Bari, Savona. Il programma delle danze tra walzer, marce e quadrille, curato dalla maestra di cerimonia, Carla Favata, ha visto la realizzazione di coreografie tratte da antichi manuali sulle note di musiche storiche. Ascoltiamo la maestra della compagnia Armonia Suave, compagnia di danza storica Dance Works, Carla Favata. Un repertorio che va dal 1820 al 1860, quindi avevamo nel nostro carnet delle danze reggensi, ma anche delle danze tipicamente ottocentesche. La ricerca, la cura e la realizzazione dei vestiti porta la firma della costumista Dania Perissinotto. L'Ottocento è stato un secolo, diciamo, anche di regole e leggi sociali molto ferree e questo si rifletteva anche nell'abbigliamento di tutti i giorni. C'erano dei colori ben definiti, ad esempio i colori molto chiari, il bianco, tutti i colori molto pastello, erano adatti alle donne, diciamo, dette da età da marito, che appunto debuttavano in società, quindi che cercavano marito. I colori un po' più scuri erano pensati ed erano adatti alle donne, insomma, già ammogliate.